L'autunno della formazione RAN Ripartire al meglio per concludere l'anno e raggiungere i tuoi obiettivi Aggiornamento, motivazione, contenuti per migliorare le competenze e sviluppare il tuo personal bedroom Eventi coinvolgenti per formarsi e per condividere conoscenze ed esperienza Opportunità di relazioni e sinergie per espandere il proprio business Si parte il 18 settembre con la grande sfida continua Un evento speciale dedicato al miglioramento delle performance aziendali Seguito il 25 settembre dal corso Il Colloquio di Selezione Come scegliere i talenti che faranno la differenza per la tua impresa Ad ottobre poi il Workshop Leadership nell'impresa 4.0 Creare e gestire un team vincente ai tempi del web Ed il corso Editoria per il web Come scrivere contenuti che suscitino grande interesse Si arriva così a novembre con gli essay social Come espandere il tuo business con il web e i social media Mentre il 22 novembre spazio il corso Wordpress in quattro mosse Come aggiornare in autonomia i contenuti del tuo sito web Il gran finale dell'anno a dicembre Prevede prima il corso Comunicare al telefono efficacemente E poi il Workshop Il linguaggio del corpo nella comunicazione efficace 10 segreti tra verità e bugie Tutti gli eventi Synergy Ram si terranno all'Holiday in Vulcano Buono di Nola Mentre gli appuntamenti Ram Smart Business nella sede Ram di Benevento Synergy Ram, Ram Smart Business Tutto questo ho pensato organizzato per te, Ram Smart Business Per un agono di sfide professionali e personali Perché chi non si porta si ferma Per un agono di sfide professionali e personali Per un agono di sfide professionali e personali Per un agono di sfide professionali e personali Per un agono di sfide professionali